Siamo all'interno di Parque Güell e questa è la casa di Gaudi. Questa era la mobiglia che stava a casa Mattia. Siamo all'interno del Camp Nou, non so se sono le varie coppia. Siamo all'interno del Camp Nou. Siamo all'interno del Camp Nou. Siamo all'interno del Camp Nou. Questa è la stampa. Questa è la stampa. La postazione della sala stampa. Questa mattina siamo qui alla casa Mattia. Questa è la stampa. 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 Palazzo con gli ombrelli. Questa è la stampa. Questa è la stampa. Questa è l'area di Spagna. Questa è la stampa. Questa è la stampa. Grazie a tutti. Questo è l'interno del castello. Stiamo uscendo dal castello. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.